Senti, lo sappiamo che è noioso questo argomento e lo sappiamo che partendo con un'attività fotografica a te ti tutto può interessare tranne che l'agevolazione dei superminimi a partire dal 2012. Però siccome ci si deve passare e questa cosa serve per svolgere l'attività, passiamoci. Che cos'è questa cosa dei superminimi? È un'agevolazione fiscale che ti consentirà di pagare di tasse molto meno di quello che si paga normalmente in un'attività avviata per un po', per un certo periodo. Per un certo periodo se la tua attività è un'attività nuova. Cosa si intende per nuova? Deve essere partita l'attività dal 2008 in poi. Se la tua attività parte dal primo gennaio 2008 in avanti, che significa anche adesso, se te prendo adesso l'attività, bene, questa attività è ammessa a godere dei benefici di questa agevolazione fiscale dei superminimi. Allora, sgombriamo il terreno dalle mistificazioni che sono girate in rete in questo periodo e cerchiamo di capire come funziona effettivamente la cosa. Tieni conto che trovi traccia scritta e anche una sorta di test online rapido e chiaro da fare partendo da www.fotography.org barra iniziare. Lì clicchi sul test per i superminimi e capisci come stanno le cose. Brevemente, non esiste un limite di età per applicare questa agevolazione. Gira in rete confusione su un termine di 35 anni che si vagheggia esserci attorno a questa legge, ma che è un termine riferito unicamente al fatto che, siccome si tratta di un'agevolazione per le nuove attività e per i giovani, se l'attività è nuova hai un'agevolazione di 4 barra 5 anni. Se l'attività è nuova e sei pure giovane, questa agevolazione va avanti per quei 4-5 anni oppure finché compi i 35 anni tu, il che significa che prolunga questa agevolazione. Ma non c'è il limite dei 35 anni, non c'è il limite. Puoi partire anche a 50 se l'attività è un'attività nuova e prima non ne facevi una simile. Prima non ne facevi una simile, ecco, questo è un elemento importante. Non è ammesso per un'attività nuova, il fatto che tu apri una nuova attività quando nei tre anni precedenti, quindi a partire da qualche tempo prima, avessi per caso già fatto un'attività similare o da lavoratore autonomo o da dipendente. Guardati la descrizione nel dettaglio che c'è a www.fotografi.org barra iniziare. Ci dicevamo allora, devi avere un'attività nuova appena avviata, o che devi ancora fare avviare, devi fare partire adesso, o nuova nel 2008. Due, devi avere un'età attività, qualsiasi, e devi avere un reddito di questa attività contenuto al di sotto dei 30.000 euro all'anno di compensi, cioè di fatturato. Quando e se superassi questo limite non sei più dentro. Altro paletto sull'aspetto economico è il fatto che nei tre anni precedenti non puoi avere investito e non puoi investire più di 15.000 euro in attrezzatura fotografica, in attrezzatura, in beni strumentali. Quali sono i vantaggi di questa agevolazione fiscale? Beh, non pochi. In primo luogo la contabilità è eccezionalmente semplice, molto più semplice di quella che avresti o barra avrai quando avrai un'attività consueta, normale. Uno. Due, una tassazione, si chiama tassazione diretta, cioè la tassazione che hai sui redditi che produci, invece di essere assoggettata a una tassa che si chiama IRPEF e che parte sostanzialmente dal 23% su quello che guadagni, è assoggettata a una tassa apposta per questo regime che è solo del 5%, è solo del 5% contro il 23 o più dell'IRPEF. Un'altra agevolazione è che, in termini di semplificazione contabile, sostanzialmente non devi applicare l'IVA né la deduci. non è sempre un vantaggio, il tuo fiscalista te lo spiegherà, però è sicuramente una grossa semplificazione. Ancora un'altra semplificazione è che le tue fatture, se sei un libro professionista, non sono assoggettate a ritenuta da conto, non viene applicata a ritenuta da conto. Altra semplificazione. In tutti i casi, però, ahimè, paghi i contributi INPS e li paghi o da libero professionista o da imprenditore, vedi un altro video specifico, in ogni caso e quindi contribuisci alla gestione INPS in maniera abbastanza corposa, questo diciamo dal 20 al 26% su quello che guadagni. Ecco qua. A questo punto non resta che augurarti in bocca al lupo, compila il test che trovi a www.fotografia.org barra iniziare e ci vediamo.